Siamo ad Argenio, sulla sponda occidentale del lago di Como, sul battello che ci porterà a Sala Comacina, dove andremo a percorrere la Green Way. Arrivati a Sala Comacina e adesso intraprendiamo la Green Way del lago. Come on! La prima parte del percorso si snoda tra giunze e piazzette di antichi borghi, quali Ossuccio, Lenno e Tre e Mezzo. Guardate che bel vicoletto! Si possono incontrare bellissime ville. Wow, che meraviglia! Le magnolie del lago di Como O chiese romaniche, come questa di San Giacomo. Ed Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.